Domenica 20 e lunedì 21 settembre saremo chiamati a mettere un sì o un no anche su un semplice quesito, ridurre il numero dei parlamentari. Attualmente al Senato siedono 315 senatori più quelli a vita, alla Camera 630 deputati. La volontà del Parlamento in carica è quella di dare una sforbiciata e quindi far diventare Palazzo Madama con 200 persone, più ovviamente i senatori a vita, Montecitorio con 400. Il dibattito ovviamente è stato acceso e tale sarà negli ultimissimi giorni. Chi opta per il sì e convinto che si tratti di una riforma che va a tagliare i corsi della politica, andrà a velocizzare l'iter delle leggi e, perché no, darà una scossa verso le urne. Chi è vicino al no, invece, vede il taglio come una misura populista, che va a ridurre la rappresentanza tra cittadini ed eletti e magari è pure uno strumento per dare una spallata al governo Conte. Il referendum, lo ricordiamo essendo confermativo, non ha bisogno di alcun quorum per essere valido.